assolutamente oggi penso che il mercato possa galleggiare nel senso che questo è un periodo tipicamente scarso di volumi e che offre opportunità agli istituzionali di riamodernare le tecnologie in questi giorni molti chiedono i permessi per andare a cambiare le lame così si sono i server di borsa quindi ogni tanto c'è qualche scossone però penso che il mercato tutto sommato stia iniziando ad accumulare e quindi l'idea qual è quella che il FuzziMill possa scendere fino a dei supporti un po' più bassi ma possa anche recuperare terreno e quindi andare praticamente a comprare in min reversal verso la parte bassa di quello che è il canale che si sta praticamente creando attorno ai supporti di 23.6 con stop loss a 23.530 però per andare long ovviamente e avere un take profit attorno ai 23.930 insomma attorno ai 24.930 insomma